torna il concorso di bellezza per antonomasia pronto anche quest'anno ad incoronare la sua reginetta l'ottantaquattresima edizione di miss italia si terrà a salso maggiore terme a partire dall'otto novembre sabato 11 novembre sarà la volta della finale una serata cruciale che richiede una padrona di casa d'eccezione nelle ultime ore il portale ufficiale del concorso ha svelato che sarà giosquillo a vestire per l'occasione i panni di condotto la finale di miss italia 2023 si svolgerà nel palazzo dei congressi di salso maggiore terme la serata verrà trasmessa in streaming a partire dalle ore 19 sul sito rai news gli ultimi minuti dell'evento dedicati all'attesissima incoronazione andranno in onda anche su rai news 24 canale 48 le candidate al titolo di più bella del reame sono 40 ambiziose e graziose ragazze due per reggio squillo è fresca di partecipazione a tale e quale show 2023 dove a dirla tutta non ha brillato per il momento non ha commentato l'annunciato sodalizio con patrizia mirigliani di sicuro in molti saranno curiosi di scoprire come si concili l'attivismo per i diritti delle donne che la cantante promuove con fervore con un concorso ormai anacronistico che premia la più bella con fascia e coron miss italia è da anni nel mirino del movimento femminista soltanto pochi mesi fa di fronte all'ipotesi che la rassegna tornasse in rai c'è stata una vera e propria insurrezione da parte delle maggiori esponenti persino vanity fair si è scagliato contro il concorso etichettandolo con appellativi quali sessista e diseducativo nonché ed emblema del patriarcato le contraddizioni certo non mancano ma la patata bollente passa ora a giosquillo alla quale servirà più di qualche retorico giro di parole per cavare grazie grazie